Oh! Ma è un gorilla! È troppo facile! Persino gli avventurieri scappano! I randaggi non droppano. Molti pensano che non ne valga la pena. Ed è proprio per questo che preferiscono scappare anziché affrontarli. Cosa? Ma non ha senso! Non c'è paura, papà! Non temere, Olga! Fareste meglio a scappare anche voi! Ryota, sei davvero tu? Cospita! No, di questo passo... Spostati, livello basso! Non so come ringraziarti. Sei sicura di stare bene? Sì, certo! Però... La nostra povera città è stata... Ora ci penso io a sconfiggere il randaggio. Eh? Non temere. Non gli permetterò di distruggere la nostra città. Allora io vengo con te! Oh! Sì! Avvicinarsi è praticamente impossibile! Lasciate fare a me! Voi intanto create un diversivo! Che cosa? Sei troppo scarso! Cosa speri di poter fare tu? Che sciocco! Fermati, livello basso! Non sai quello che fai! Fidatevi di me e basta per ora! Prendi questo! Sei fantastica, Emily! Grande, Eve! Grazie, ragazzi! Attento, Yoda! Non sottovalutate le mie abilità! Grazie, ragazzi!